Un posto al sole, nuove puntate, Roberto e Marina potrebbero prendere in affido Tommaso. L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole promette ancora una volta grandi colpi di scena e sorprese. Le anticipazioni della SOP opera, infatti, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Roberto. Marina e Lara, i quali si ritroveranno ancora una volta al centro dell'attenzione e delle dinamiche della SOP. Il motivo? Lara continuerà ad essere una presenza costante e ingombrante nella vita dei due coniugi. Complici i malesseri sempre più frequenti del piccolo Tommaso. Tuttavia, le bugie di Lara potrebbero avere le gambe corte nel corso delle prossime settimane. Ferri potrebbe ritrovarsi a prendere una decisione importante. Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano crostato di salute cagionevole del piccolo Tommaso sarà motivo di grande preoccupazione per Roberto e Lara. La donna, infatti, metterà subito al corrente l'uomo su quelle che sono le novità legate alla salute del bambino. Nonostante i mille dubbi sul fatto che ci sia sempre un malessere dietro l'angolo. Dubbi e sospetti che, nel corso delle nuove puntate di questa fortunatissima stagione della soap opera, potrebbero portare Roberto e Marina a cercare chiarezza. Sì, perché le bugie di Lara fino a questo momento non sono ancora venute a galla, la donna potrebbe ritrovarsi con le spalle al muro nel corso dei nuovi episodi di Un posto al sole. Quando tutte le sue menzogne sul bambino, potrebbero venire prepotentemente fuori. E, a quel punto, la reazione di Roberto potrebbe spiazzare, nel momento in cui l'uomo scoprirà di essere stato ingannato e che quel bambino non è realmente suo figlio. Potrebbe spiazzare la sua amata Marina, con una richiesta a dir poco clamorosa e sorprendente. Roberto, infatti, non ha mai nascosto di provare un grande affetto nei confronti di quel bambino che crede sia suo figlio a tutti gli effetti. Anche di fronte alle lamentele di Marina, l'uomo ha sempre cercato di farla ragionare. Facendole presente la sua intenzione di non voler commettere gli stessi errori che aveva fatto in passato con gli altri figli. Ecco allora che, nel momento in cui Roberto scoprisse la verità sulle menzogne di Lara, potrebbe comunque decidere di non rinunciare al piccolo Tommaso. Dato che il bambino non è figlio suo ma neppure di Lara, l'uomo potrebbe chiedere a Marina di adottarlo e quindi continuare a crescerlo insieme. Come se fosse un figlio loro a tutti gli effetti. Una proposta che potrebbe spiazzare la signora Giordano ma riavvicinare di nuovo la coppia.